Consegnati 6.000 capi di abbigliamento alla protezione civile della regione Campania per l'emergenza profughi ucraini. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, sua autorizzazione del Tribunale ha devoluto alla protezione civile 6.000 tramaglie, maioni e pantaloni, quale segno di solidarietà per i profughi. I capi di vestiario di Buonafattura, ai quali è stato rimosso il marchio contraffatto di note griff di moda, erano stati oggetto di sequestro da parte dei baschi verdi di Napoli nell'ambito della nota operazione Pezzotto Connection, che aveva portato nel mese di aprile 2021 alla denuncia di 22 responsabili e al sequestro di 17 traupifici e depositi clandestini, nonché di 873 macchinari. La donazione di oggi, che assume particolare significato alla luce dell'attuale emergenza umanitaria, rientra nel quadro delle iniziative promosse dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in seno all'apposita cabina di regia istituita presso la prefettura partenopea.